Mobilia Megastore ti regala fino a tre giorni di vacanza e scegli tu dove andare. Devi solo acquistare una delle tante soluzioni in promozione. E da oggi? C'è anche un nuovo reparto dedicato ai letti e trasformabili. E per i pagamenti c'è tempo! Fino a 48 mesi a passo zero o 60 mesi con prima rata a dicembre. O scegliere una vacanza fino a tre giorni con un fantastico pacchetto emozione. O un trolley roncato o teli per il mare. Ho deciso, vado al mare in Umbria. Mobilia Megastore ti aspetta anche la domenica a Caserta Sud e a Salerno Est.